Mister, quale indicazioni hai tratto da questo primo test amichevole dell'Agragas contro il Canicati all'Essaneto? Una buona sgambatura, una partita che dopo dieci giorni onestamente non potevo chiedere di più rispetto a quello che hanno dato i ragazzi. E' chiaro che sono dei test che ci consentono di conoscerci meglio, una squadra nuova, una squadra che sta pian piano amalgamandosi, è una squadra che sicuramente sarà diversa ai nastri di partenza. Per quanto riguarda il mercato, soddisfatto di quanto fatto finora? Sì, anche perché abbiamo deciso di aspettare. Anche il calciomercato è fatto di strategia, non solo legale, quindi abbiamo dotato questa strategia di comune accordo con il direttore e con la società, anche perché cerchiamo profili importanti, profili di livello, giocatori che ci possono fare crescere sia a livello di struttura che come gruppo squadra. Quindi sono contento, so che arriverà qualche altro innesto importante che ci possa far alzare il livello. E' stato un bel test, soprattutto che venivamo da una settimana molto carica di lavoro, quindi non era facile, però penso che ci siamo comportati bene in campo e abbiamo fatto le cose che il mister ci ha chiesto. In cosa deve migliorare, crescere l'Akragas? Ovviamente siamo presti ancora, il lavoro c'è molto da fare, però penso che con il mister e con la società possiamo migliorare in tutti gli aspetti. Perché hai scelto l'Akragas? È stato un progetto che mi ha subito coinvolto dall'inizio, ringrazio il presidente, il direttore per l'interessamento e ho scelto subito di venire.